Adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Dio ci mette davanti dei grandi obiettivi, cancellare il peccati, onore e la gloria. Gli elementi del carattere che aiutano l'uomo ad avere successo, la volontà, la tenacia, la perseveranza, devono cambiare direzione per essere applicati per raggiungere nobili obiettivi. La ricompensa di una vita dedicata al servizio di Cristo supera tutto ciò che la fantasia umana possa comprendere. Cristo non esige che gli uomini mettano da parte il loro zelo, il loro desiderio di migliorare, ma vuole che si cerchino tesori preziosi e onori duraturi. Dio è contento quando vede uomini che guardano in alto puntando alla vita eterna. Per ogni tentazione vinta c'è la grande vittoria di avere sottomesso il proprio io a servizio di Gesù. La fede aumenta così come la speranza, la pazienza e la tolleranza. Vi auguro una buona giornata.